siamo in consegna car tablet dedicato alfa romeo giulietta partiamo subito con recupero funzioni auto qui abbiamo la leva dna nel momento in cui l'andiamo a usare avremo le informazioni direttamente sul display natural dynamic e poi torniamo indietro e poi abbiamo il recupero setup veicolo direttamente dalla funzione comandi al volante andiamo in programmazione tenendo premuto e possiamo gestire impostazioni veicolo display orologio consumi impostazione luci insomma abbiamo tutte le funzioni che la radio originale permetteva di eseguire quindi smontando e montare il nostro montando il nostro prodotto le andiamo a recuperare poi passiamo alla home del car tablet gestione radio recupero comandi al volante avanti e indietro stazioni gestione audio e video tramite le usb abbiamo recuperato anche l'originale gestione contenuti cartelle e poi andiamo nella home android dove avremo tutte le app in questo caso un elaboratore sonoro detto dsp dove il cliente si potrà personalizzare il pacchetto sound ricordiamo che le funzioni google le potete usare sia manualmente come stiamo facendo adesso oppure con la gestione comando vocale il play store vi permette di scaricare le app gestione video tramite la usb poi possiamo usare la funzione split screen dove al guidatore concentrato con il navigatore e magari per i passeggeri possiamo impostare o youtube oppure gestione audio e video tramite le usb tutti i nostri prodotti sono disponibili presso il nostro shop un saluto a tutti voi e buon fine settimana